L'artigianato di qualità Ligure ha dimostrato una grande vitalità e ha dimostrato anche una grande capacità, una grande cultura di impresa e una grande qualità di prodotti. Quindi è un settore che noi strategicamente stiamo appoggiando perché lo riteniamo non solo importante in sé, ma importante in quanto combinato e disposto ad un'offerta di una terra, come adesso abbiamo detto, che è fatta di qualità di prodotto, di qualità dell'ambiente, di qualità dell'arte, di capacità di messa al sistema dei suoi prodotti come offerta commerciale ma anche come attrattiva turistica. E quindi oggi qua in piazza la dimostrazione di tutto quello che sto dicendo è fisica, ci sono gli artigiani di qualità della Liguria che spongono i loro prodotti e i loro progetti per il futuro. Più tardi ci cimenteremo anche, come facciamo ogni anno, in alcune delle professioni complesse e difficili che gli artigiani fanno e tramandano di padre in figlio nelle loro aziende con i loro apprendisti. La nostra performance normalmente è di assoluta mediocre qualità, ma detto questo è un approccio a un mondo che è molto importante per la nostra economia e credo molto importante anche per la nostra cultura.